amici di quarta parete buonasera sono in compagnia di giulia guastella eccola qua buongiorno giulia l'occasione è per parlare del suo imminente spettacolo ovvero il 10 ottobre al teatro laura fino al 13 che si intitola idoria ma non ammessa insomma è un titolo abbastanza provocatorio no lo possiamo dire dove appunto giulia un po narra le vicende un po tragicomiche di una ragazza appunto che si avvicina alla professione di attrice e naturalmente deve fare un percorso quasi obbligato no tra la famiglia che tira da una parte tutta una serie di incontri insomma che indubbiamente non sono sempre felici e però in mezzo tante 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 gag e tante energie solo sul palco ma allora come dire appunto è un titolo abbastanza provocatorio perché credo che almeno una volta nella vita tutti si sono ritrovati soprattutto in italia nella situazione di essere idonei ma non ammessi ovvero bandi che non erano abbastanza chiari oppure dei provini che alla fine non erano abbastanza chiari oppure delle situazioni che non erano abbastanza chiare ma in tutto questo ovviamente c'è di mezzo la fortuna come c'è di mezzo la corruzione come ci sono di mezzo tante cose allora uno che fa quando è idoneo ma non ammesso si arrende no assolutamente secondo me se nel momento in cui c'è qualcuno che ti sbarra le strade oppure le strade sono molto tortuose in quel momento secondo me è l'ora di inventarsene di nuove cioè nel senso ci sono è vero dei percorsi obbligati però è anche vero che uno può fare un altro percorso e arrivare sempre alla meta esatto esatto secondo me l'obiettivo in questo caso è quello di colpire il pubblico di farlo ridere di insomma di cercare di avere la sua attenzione per un'ora e un quarto in cui io sono da sola ballo canto mi spoglio piango faccio di tutto e cerco di raccontare la mia storia che è appunto quella di una giovane attrice che in qualche modo riuscirà a far diciamo a realizzare il suo al suo sogno che è quello di essere un'attrice oppure no vi lascio con questo interrogativo in un modo o nell'altro ce la farà e già il fatto che è sul palco che questa è la decima replica poi sarò anche in svizzera che ho avuto questa notizia da poco emigri sì emigro emigro già sono emigrata dalla sicilia e già i miei genitori volevano un po' di infezione un po' però però state tranquilli che sul palco non si sentirassero che sarò perfetta perfetta insomma si sente un po' la condizione è molto è molto buona quindi in realtà è un po' uno spaccato anche di vita personale no cioè i tuoi percorsi ne avrai fatti diversi insomma ti sarei voglio dire scontrata con tante situazioni al limite del diciamo del lecito quasi allora si è un percorso cioè riflette assolutamente la mia vita la mia vita di una ragazza ingenua che pensa che se tu hai le carte in tavola per affrontare un percorso così come per qualsiasi altra cosa le cose vanno due più due fa quattro quindi c'è anche molto della vita personale non solo della famiglia tipicamente siciliana che poverina vuole per me si crea delle aspettative esatto esatto delle aspetti quindi cerca di lasciarmi libera ma in realtà è molto presente ma non solo si parla anche di amore di amore di tradimenti che purtroppo fanno parte della mia vita perché io sono come una ragazza che così cade un po dalle nuvole perché si deve scontrare con il con la terra cioè ovvero qualche disillusione ci sono i tradimenti ma non si fanno parte della vita come tutti quanti esatto bene allora devo dire che questo testo l'hai scritto in collaborazione con federica bisegna la regia di vittorio buonaccorso vogliamo aggiungere altre qualche altra cosa giulia sicuramente loro sono parte fondamentale della mia vita perché la compagnia percorso sì 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 della mia vita nel mio percorso artistico di tutto perché la compagnia godò è proprio la compagna una compagnia veramente di professionisti dove mi sono formata e loro vittorio benaccorso e federica vedendo sempre la mia vita un po' rocambolesca ecco perché me ne succedevano di tutti i colori animata esatto anche perché io sono molto sbadata quindi mi succedono sempre delle cose particolari esatto allora ti portano con i piedi per terra no ma loro mi dicevano ma perché questo non lo fai diventare uno spettacolo c'è scrivi scrive me lo dicevano da sempre ma io non sono una scrittrice e poi ci siamo messi due anni ci sono voluti ci sono messi in tre praticamente a scrivere rifare ricucire è veramente uscito fuori un one woman show da vedere allora ti verremo a vedere con insomma già le premesse mi sembrano molto interessanti insomma di questa ragazza sbadata molto sbadata allora quindi teatro laurea dal 10 al 13 ottobre giulia guastella con idonea ma non ammessa ma insomma a questo punto penso dopo questo spettacolo sarai totalmente idonea ecco scritto interpretato da giulia guastella con la collaborazione di federico bisegna e la regia di vittorio buon accorso allora giulia in bocca al lupo al per il tuo prossimo esame vi aspetto e grazie tante grazie a te giulia auguri